Dissabuti morali Ciò che penso lo esprimo scrivendolo E nessuno potrà mai negarmelo È una fonte di divina solidarietà Dandomi sano equilibrio fisico e morale Quando l'essere umano ti gira la spalla Non pensarlo, mettendolo il testo in giù Ma è il momento di reagire Spiazzandolo, mandandolo a quel paese Rivirai in pace il tuo unico villaggio Riformato, sano ed esperto essere umano Quello adatto a me Non farti mai illudere dalle gelosie, invidie e cattivere Da questo isolato mondo Vivi come me, escludendoti momentaneamente Dalla vita sociale Per una nuova rinascita, una nuova famiglia Iniziando in questo nuovo fantasioso E ambizioso percorso Pietro Polo Quarta Poeta Editore Fama, sigillo dottore Voglia l'Italia Grazie a tutti 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 Grazie a tutti